Fonseca confermato per lungo tempo, la curva a sud risponde e una cosa che molti non sanno su Daniel Maldini, tutto questo dopo la sigla Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Caccio Secondo Giovanni, vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi al canale, è completamente gratuito, basta cliccare su tasto iscriviti e attivare la campanella, così sarete aggiornati a tutto ciò che riguarda il Mina in tempo reale, a volte anche in anteprima, attraverso le nostre rubiche giornaliere, attraverso le nostre live martedì e giovedì sera, attraverso anche le nostre pre e post partite di tutte le partite del Mina. Vi ricordo inoltre che potete interagire con il canale nella chat o durante la trasmissione del video, a fine video o a fine live nei commenti lasciando il vostro pensiero. Vi ricordo inoltre che potete aiutare il canale tramite donazioni e abbonamenti, le donazioni se volete e se potete, per quanto riguarda gli abbonamenti si parte da 99 centesimi al mese e ci sono anche altre 4 tipologie di abbonamento e ognuno vi dà diritto a un benefit diverso. Vediamo un po' le notizie di oggi, allora innanzitutto si inizia a pensare alla partita di 3 giorni contro l'Udinese, stanno ritornando alcuni giocatori, sono ritornati oggi i francesi, è tornato Reinders, l'ultimo a tornare sarà probabilmente Musa, giovedì sera. Per ora la formazione che si prospetta, a meno quella che si trova sulla Gazzetta dello Sport, sarebbe questa. Mignan, Emerson, Gabbia, Pavlovich, Terracciano, Fofana, Reinders, Pulisic, Morata, Leao, Okafor. Quindi Okafor punta centrale, Pavlovich al posto di Tomori, con Terracciano al posto di Teo Hernandez. Questa sembrerebbe la formazione, però non è detto perché Fonseca ci ha abituato anche a delle sorprese, quindi vedremo poi nei prossimi giorni, anche in base a come i giocatori torneranno dai stop, dalle partite nazionali. Milano-Udinese sarà arbitrato da Kiffi, Kiffi che è un arbitro che porta abbastanza bene a Milano, dopo 545 giorni, quindi quasi due anni, un anno e mezzo abbondanti, quantomeno, Kiffi ritorna a arbitrario in Milano. Diciamo che un'altra notizia che adesso è arrivata è che quanto riguarda la partita il 5 novembre della Madrid-Milan, sono stati messi in vendita i biglietti dei struttori ospiti, in 4 ore sono stati già esauriti. Quindi i tifosi di Milano rispondono sempre, come ho detto anche la partita con l'Udinese siamo praticamente al sold out, e quindi speriamo che i giocatori di Milano diano prova di un attaccamento a colori, quindi facciano una prestazione degna della maglia che indossano. Altra notizia che viene questa volta dalla Gazzetta dello Sport, ma non solo, è che sembra ci sia stato proprio una riunione in dirigenza che abbia confermato Fonseca a lungo, perché è stato detto che per il progetto di Fonseca ci vuole tempo, quindi non si può mandare via all'allenatore dopo 7 giornate, sono state viste le cose buone, altre meno, ma appunto c'è bisogno di una continuità di lavoro, c'è bisogno di un tempo da dedicare a Fonseca all'allenamento della squadra, e quindi ci vuole sicuramente più di quello che ha avuto, quindi sembra che ci sia proprio una conferma di Fonseca a lungo termine, e questo è anche una risposta all'atteggiamento di alcuni giocatori che forse pensavano che Fonseca avesse vita breve. Altra notizia riguarda Calabria, che è stato sentito per riguardo in indagine sulle curve, Calabria ha detto che ha parlato con Lucci esclusivamente del Milan, dei problemi che avevano a Milan, mai parlato di biglietti o mai avuto minacce, questo è quanto ha riferito il capitano del Milan, e per quanto riguarda proprio la questione curve, c'è un comunicato uscito ieri la curva a sud, che vi leggo, cerco velocemente, dice, abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole affrettate, perché inevitabilmente avevamo bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto la settimana scorsa, vogliamo iniziare subito con una premessa doverosa e sacrosanta, noi siamo la curva a sud, Milano, noi siamo gli uterus del Milan, noi siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro Milan, noi siamo quelli che ci sono sempre, comunque e dovunque, ci saremo ancora, come sempre, a spese nostre, senza regali da parte di nessuno. Noi siamo sempre uno a fianco all'altro, noi siamo quelli che abbiamo subito ogni tipo di repressione e abbiamo sempre tenuto duro, noi siamo quelli che hanno il Milan nel cuore e vogliono solo il bene dei nostri colori, noi siamo questo da sudici anni, partendo dagli anni più bui, dopo lo scioglimento dei gruppi storici, siamo risaliti al punto più basso per tornare a brillare come le stelle più luminose, anni in cui ci siamo rialzati grazie soprattutto a quei ragazzi che tutti conoscono, quei ragazzi sbattuti in prima pagina sui giornali, quei ragazzi che sono sempre stati in prima fila in ogni occasione, quei ragazzi che hanno già pagato un prezzo alto per il monte di episodi che oggi gli vengono contestati, quei ragazzi che hanno messo la curva su dell'amore per il Milan sempre al primo posto, in ogni passo e ogni decisione, al contrario di ciò che vogliono farvi credere. Abbiamo cantato con questi ragazzi, abbiamo sofferto e cedito con loro, abbiamo ammirato con mossi orgogliosi le decine di coreografie realizzate in questi anni, tutte autofinanziate, abbiamo tifato con loro, abbiamo combattuto al loro fianco, loro vi hanno difeso quando vi hanno attaccato, siamo stati accanto a questi ragazzi quando tutto era più difficile e quando il Milan aveva più bisogno di noi. Noi con loro siamo quelli che abbiamo trascinato uno stadio intero a cantare per i rossoneri, noi con loro siamo quelli che in tutta Italia e tutta Europa abbiamo fatto sentire il Milan come se giocassi in casa e tutto questo va scritto a chi, sedici anni fa, ha creduto fermamente nel sogno di volere la curva sud unita, senza più divisioni, nel progetto che portasse una coesistenza serena e che coinvolgesse tutti i tifosi rossoneri, utas, club e persone che frequentavano autonomamente lo stadio, portando la tifosiera rossonera ad essere tra le più ammirate, amate e rispettate d'Europa. E' questo ciò che per noi conta, è questo ciò che bisogna riconoscere anche e soprattutto a questi ragazzi, ed è tutto ciò che qualcuno invece vuole farvi dimenticare. Ora è il momento di stare ancora più unite e compatti, ora è il momento di stringere i denti e resistere insieme come abbiamo sempre fatto, per andare avanti insieme, perché ci vogliono divisi uno contro l'altro, ma sanno bene che in tutti questi anni abbiamo dato vita a una seconda famiglia che ha accolto migliaia di ragazzi e l'ha portato per mano a percorrere i chilometri in giro per l'Europa, al fianco del diavolo. Questa curva ci ha sempre messo la faccia, si è sempre battuta per il bene di tutti, come ad inizio del 2022, quando ci siamo trovati i bar dello stadio che vendevano la birra con ricarico del 60% in più rispetto al termine della stagione precedente, cercando di trovare un accordo che accontentasse tutti. Oppure come quando abbiamo cercato di porre in un freno la crescita imbarazzante del prezzo dei biglietti, la protesta per il listino di Milano-Atalico-Madrid del 21-22, poco retto in fretta e furia, o la battaglia per mettere un tetto a prezzo dei settori ospiti come accade ormai in tutta Europa, coppie comprese come da direttive UEFA che proprio quest'anno ha abbassato ulteriormente il prezzo massimo. Gli accadimenti che hanno coinvolto le due curve di Milano sono profondamente diversi e si è cercato di far passare l'idea che il patto di non belligeranza tra le curve sia stato utilizzato come mezzo per fare soldi. Peccato che sia un accordo storico siglato dopo il mondialito nel 1983, per evitare di avere una guerra continua in città, in ogni dove in qualsiasi momento è la settimana tra milanisti e interisti. E da oltre 40 anni questo patto è stato portato avanti da chiunque abbia gestito nel tempo le due curve, in maniera intelligente e responsabile, a differenza di quanto si voglia far credere con solo i fidi speculativi, di lucro o di guadagnia personale. Non c'è niente di più falso, non offesa la storia, e a chi si accordò per questo patto, e a chi dopo 40 anni lo rispetta ancora e lo considera un unicum, ne parlavamo mondiali delle fuserie, rendendo il derby di Milano uno dei partiti più tranquilli dell'anno. Non abbiamo mai gestito parcheggi, non abbiamo mai gestito baracchini, non abbiamo mai gestito bar, non abbiamo mai ricevuto soprattutto preteso biglietti delle società, non abbiamo mai gestito cose al di fuori del mondo ultras, non abbiamo mai compiuto atti di intimidazione o violenza per accapararci profitti derivanti da attività tangenziali all'ambiente stadio, non abbiamo mai fatto i bagarini, ma ci siamo semplicemente permessi in alcune circostanze di differenziare i prezzi da chi c'è sempre stato e chi ha frequentato meno assiduamente, sempre in interesse dei primi, mai per il torino a conto personale. Un'introte è stato impiegato nell'autofinanziamento e per la realizzazione di coreografie. E va avanti così. Sistendo una vergognosa campagna mediatica di giornali tv che tende a fare i maestroni infangando ragazzi sullo scopo di fare audience. E parla poi delle cose buone che hanno fatto, la beneficenza di Mila Romagna, altri raccorti di soldi e così. E quindi ecco, cosa dire questo? Allora, in una parte condivido quello che c'è scritto, in una parte meno. Perché questi ragazzi sono coloro che sono indagati e questi ragazzi hanno sbagliato tanto. Hanno sbagliato tanto. Io non penso che condanne ripetute siano dovute al caso, a un accanimento verso i loro confronti. Penso che ci siano delle prove. Penso che i giudizi che sono stati dati su queste persone siano derivanti da prove. Adesso poi, quello che sarà nel futuro, ci saranno un nuovo giudizio. Se ci saranno delle prove, saranno condannati. Se ci saranno delle prove, non saranno condannati. Secondo me, ecco, gli Ultras potranno avere maggiore importanza, maggiore anche credibilità, se questi personaggi che delinquono non vengono fatti entrare. Tutto qui. Cioè non mi si può far passare questa gente come delle persone sfortunate e che loro hanno portato bene a Mina. Può darsi, può darsi, però sinceramente io la persona non giudico tanto adesso per quello che fa a Mina, ma la persona la giudico per quello che fa nella società. E se questi hanno spacciato droga, se questi hanno fatto traffici, eccetera, illeciti, è giusto che paghino e sicuramente non vanno messi su un palco a prendere l'applauso della gente. Ecco, se gli Ultras riusciranno a ripulirsi di questi personaggi che sono non solamente a Milano, sono anche da tante altre parti, allora si diventeranno più credibili. Fino a che gli Ultras saranno capeggiati queste persone, la credibilità sarà notevolmente inferiore. Veniamo poi all'ultimo argomento. Parlo di Daniel Maldini. Ebbene, logicamente con la convocazione nazionale di Daniel Maldini si sono riproposte le critiche alla società che ha svenduto Maldini, che non ha preso niente, che sono degli incapaci, che sono delle gente che non stanno nemmeno vendere i propri giocatori, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho già detto che se Daniel Maldini fosse rimasto a Milano non avrebbe giocato. Non avrebbe giocato perché era logico che non giocasse. Quindi il Milan ha fatto bene a farlo giocare a Monza. La cosa che non si sa che anche io ho scoperto da poco è che oltre il 50% della futura vendita di Maldini il Milan ha la priorità di acquisto. Cioè, se al Monza Monza decidirà di vendere il giocatore e al Monza arriverà una offerta se Milan la pareggerà la prenderà il Milan Daniel Maldini. Quindi non è che è stato lasciato così. C'è un diritto di predazione che Milan ha rispetto a tutte le altre società. Quindi, se Maldini esplodesse, se Maldini facesse bene, se Maldini dimostrasse quello di cui parlo da tanto tempo che fa in alleamento ma che sul campo ancora non riesce a fare, il Milan ha diritto di predazione. Quindi il Milan può acquistare e acquistare Maldini col 50% di sconto pagandolo alla metà. Quindi, non è che è lasciato a se stesso. Non è che Milan non ha più voce in capitolo su Dani Maldini. Il Milan ha voce in capitolo nel caso in cui il giocatore facesse bene, esplodesse e continuasse in quel percorso di miglioramento che quando è andato a Monza sta facendo, il Milan ha la possibilità di ricomprarlo. Quindi, anche qui, quando si fanno delle accuse guardiamo un pochino la verità dei fatti perché è giusto criticare ma bisogna vedere anche i fatti quali sono. In questo caso qui c'è un diritto di predazione che la società può far valere al momento in cui Monza deciderà di vendere Dani Maldini. In quel caso lì il Milan costrerà con il 50% di sconto nel caso in cui invece non lo voglio acquistare prenderà solamente il 50% del prezzo di vendita del Monza a una terza società. Con questo abbiamo finito vi ricordo di mettere un like al video vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo domani a 14.30 e dopo domani sera per la live con DNA Team. Ciao a tutti e buona giornata e forza Milano da Giovanni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.